In collaborazione con Val Sugana, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Valle di Lebro, Val di Fiemme Cari amici degli spettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata a questa tutta dedicata alla bellissima Val Sugana Siamo in Trentino, Val Sugana è un territorio ricco di storie, di sport e di cultura, facilmente raggiungibile da Trento, autostrada del Brennero, pochi chilometri e si inizia questa valle come così dalla parte del Veneto sopra Vicenza Nella prima parte abbiamo presentato le famose Terme di Levico, la sua offerta importante di questo territorio, i suoi laghi, Bandiera Blu, Lago di Caldonazzo e Lago di Levico Termi, abbiamo parlato anche di enogastronomia Seconda parte dedicata alla cultura, allo sporco nel trekking e alla ciclabile, qua pensate c'è una ciclabile di 80 km che dalla Val Sugana arriva sino in Veneto Siamo al Forte delle Benne, è uno dei quattro forti di questo territorio, territorio di confine durante la prima guerra mondiale E parliamo di questa importante offerta culturale con Carolina Cattoni che è dell'associazione Forte delle Benne, un'associazione che gestisce questo patrimonio storico importante, una risorsa del turismo trentino e italiano Carolina questi cimeli storici completamente rinnovati che voi con la vostra associazione portate avanti un discorso di formazione verso i giovani ma anche verso i tanti turisti che vengono qui in Val Sugana a farsi le vacanze Sì, è proprio così, noi proviamo attraverso la nostra associazione con l'apertura del Forte, un'apertura estiva e anche invernale, proviamo a far conoscere la storia del territorio, il territorio della Val Sugana, il territorio trentino A tutti, non solo ai giovani, alle famiglie, ai bambini, ai piccolini e anche agli adulti che magari non conoscono questa parte della storia del territorio Adesso per poter permettere ai visitatori appunto di conoscere questa struttura apriamo durante l'estate, il martedì, il venerdì e la domenica L'orario ottunale quindi dalla metà di settembre fino al 31 ottobre e tutte le domeniche dalle 10 alle 16 Noi consigliamo sempre la prenotazione tramite APT, è fondamentale per evitare avere dei problemi e non trovare posto per poter entrare Ecco, ora andiamo a scoprire le bellezze di questo Forte, cosa c'è, cosa si trova all'interno di questo cimelio storico? Si trovano tante cose, ma una delle cose più importanti è il fatto che possiamo vedere, possiamo conoscere come vivevano i soldati all'interno del Forte delle Bene Attualmente abbiamo anche una mostra storica che parla appunto del rientro della popolazione di Levico dopo la Prima Guerra Mondiale Anche una mostra d'arte, di un artista, uno scultore di Levico, di Aran di Murvanco, la sua mostra si chiama La Grande Polvere Noi siamo proprio venuti a scoprire le bellezze della Val Sugana, abbiamo parlato di gastronomia, abbiamo parlato di terme, di sport e di cultura Ma chiaramente la storia, voi siete appunto di origine astrungarica, qui venivano gli Osburgo a soggiornare grazie alle acque termali, grazie ai vostri laghi, grazie alla vostra acqua da bere E quindi anche la storia fa parte di questo vostro patrimonio Certo, la storia fa parte del patrimonio, è fondamentale, anche perché la storia fa identità, il conoscerla fa proprio identità Ed è fondamentale anche che la popolazione sappia chi è per poter poi affrontare il futuro e tutte le sfide che soprattutto questo momento storico ci ha messo davanti Dagli 800 metri di Forte delle Belle siamo saliti ai 1500 metri di Forte Busa Grande Altra memoria storica, come vedete della Val Sugana, qui c'è un panorama unico a 360 gradi, vedete proprio alle mie spalle il lago di Caldonazzo e il lago di Levigo Terme Qui incontriamo Stefano Ravelli che è il direttore dell'azienda per il turismo Stefano in apertura abbiamo detto un'estate che non finisce mai, ora si pronuncia un grande autunno, settembre-ottobre Le offerte che fate sono ancora tante e veramente sfiziose, qui si può fare tanta bicicletta ma soprattutto trekking in questa memoria storica, in questo paradiso turistico Tante escursioni sì, qui secondo me viene fuori il vero appassionato della montagna, chi magari preferisce frequentare luoghi con meno gente, ancora più tranquilli Abbiamo un po' bleffato, noi potevamo salire a piedi, invece siamo venuti qua con la macchina, arrivi in una selletta qua sotto a località Compete Dopo in 10 minuti raggiungiamo questo bellissimo terrazzo naturale, però da qua c'è il gruppo della Gorai, da qua partiamo Quindi Levigo sicuramente metadeale, campeggi, alberghi, bed and breakfast, appartamenti e qua in quota anche le baite Per fare un weekend lungo, una settimana, secondo me dobbiamo imparare sempre di più a ritagliarci i nostri tempi per aumentare la qualità della vita Siamo nella prima destinazione per il turismo sostenibile e è la natura il nostro elemento, quindi è un invito a farvi venire anche voi a camminare O anche noi, anche se vogliamo camminare meno abbiamo le passeggiate intorno al lago, ma anche qua arriviamo in quota in macchina Poi delle escursioni anche senza grandi dislivelli, però approfittiamone perché adesso inizia già un po' a cambiare il colore delle foglie, delle nostre piante Quindi anche qui diventa una grandissima opportunità e poi per chi vuole camminare da qua raggiungiamo i 2800 metri del gruppo del lago Rai e Cima d'Asta Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti Un'estate lunga, adesso si è parlato dopo Covid che le vacanze sono un po' spostate Da giugno si è passati a luglio, agosto ora si preannuncia anche un buon settembre e ottobre, anche novembre Poi voi ripartite, chiudete l'estate ma ripartite i mercatini di Natale Quindi ormai in Val Sugana il turismo è 360 giorni all'anno Stiamo cercando di lavorare per averlo 12 mesi l'anno, quindi abbiamo un calo ancora a novembre Però effettivamente guardate, io sono testimonial con la mia famiglia, abbiamo fatto il bagno proprio domenica scorsa Quindi l'acqua è ancora calda, però ripeto, una bella passeggiata, una bella mangiata Poi scendiamo al lago, ci facciamo ancora un bagno, credo che sia una grande opportunità Arriviamo fino a metà, inizi di ottobre, metà di ottobre con la possibilità di fare il bagno anche per noi italiani Non solo per i tedeschi perché loro vanno avanti ancora di più Tante belle feste, sono ripartite anche queste con i sapori d'autunno Quindi zucca, castagne, abbiamo adesso la produzione anche di vini anche qui, le mele Quindi è un invito per venire E poi sì, come dicevi anche tu, novembre altri weekend di festa E poi arriviamo nel club con i mercatini di Natale che vengono fatti in una cornice particolare Che è quella del parco degli Asburgo Visto che qui effettivamente eravamo fino a poco tempo fa Zona di confine e la Val Sugana e Levico Era zona di produzione di vino proprio per l'impero austro-ungarico Ecco anche la costruzione della ferrovia per portarsi via quello che di buono avevamo Ovvero il vino e quindi erano buon gustai all'epoca E noi continuiamo ad esserlo E quindi è un invito anche per tentarvi anche dal punto di vista della gola Quindi venire a provare i nostri piatti tipici trentini e della Val Sugana e di Levico E quindi tante strutture che sono qua pronte ad ospitarvi, ad accogliervi, ad aspettarvi Hai parlato di enogastronomia, hai parlato di lago Abbiamo saputo, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate Che ci sono delle aziende vinicole che sfruttano il vostro lago come cantina Infatti quindi Trento Doc, un grande marchio, quindi al nostro champagne E qui abbiamo risolto un problema, una piccola realtà giovane Che ha utilizzato come cantina naturale il lago Quindi mettendo a maturare il proprio vino a 20 metri di profondità Visto che la temperatura viene garantita costante tutto l'anno, inverno e estate Quindi anche qui è qualcosa da non perdere, qualcosa di unico Così come unici siamo dal punto di vista della sostenibilità Quindi se credete all'ambiente vi aspettiamo, venite in vacanza da noi Un weekend lungo, una settimana per le famiglie, con la coppia, con amici Per fare attività sportive O semplicemente per venire a vivere qualche bella esperienza in compagnia degli amici Mangiando e bevendo E infatti adesso vi invito a venire a degustare tramite noi qualche piatto a Trantino Grande successo per questa estate 2020 qui in Val Sugana Le camminate in alta quota dopo una primavera di lockdown Camminate al Passo Vezzana, al Broccona, alla Panarotta e al Tesino Altra peculiarità della Val Sugana è l'offerta ciclabile Qui ci sono tante piste per mountain bike, fuori pista nelle montagne che circondano la Val Sugana Ma una peculiarità importante è la ciclabile che vediamo qui alle nostre spalle Ci sono 85 km di pista che parte dal lago di Caldonazzo Qui alle mie spalle e arriva sino in Veneto a Bassano del Grappa Completamente usufruire solo da amanti delle due ruote Siamo con Patrizio Andreatta dell'azienda per il turismo Patrizio in questa puntata abbiamo visto tutto quello che può offrire la Val Sugana La prima parte, le terme, il lago, bandiera blu Abbiamo visto la sua storia, abbiamo visto le offerte trekking con il direttore Stefano Ravelli Altra importante offerta, 85 km di pista ciclabile Interamente dedicata alle due ruote qui in Val Sugana Una vostra primizia, una vostra eccellenza Sì, come hai detto tu, una varietà di proposte sia per quanto riguarda l'estate Ma anche per quanto riguarda l'autunno Perché se il tempo lo permette, settembre-ottobre sono sicuramente due mesi Dove poter fare tantissime attività anche qui in Val Sugana Qui ci troviamo sulla pista ciclabile Come dicevi tu, questi 80 km che partono dal lago di Caldonazzo Da Pergine e Val Sugana arrivano fino a Bassano del Grappa Una ciclabile che passa attraverso diversi paesi Con diversi paesaggi, tutti da scoprire E varie peculiarità La pista ciclabile della Val Sugana per il 2020 ha ricevuto anche Il premio come ciclabile più verde d'Italia ai Green Road Awards E quindi è sicuramente un vanto per noi, per la nostra destinazione Anche in ottica della certificazione di sostenibilità che abbiamo ottenuto E soprattutto 80 km con la ciclabile Ma vicino c'è la linea ferroviaria Per chi ha qualche problema quindi può ritornare in treno Soprattutto ci sono tanti bici grill Stazioni di rifornimento, stazioni di servizio Una volta si diceva in autostrada Voi avete dei bici grill nella ciclabile Quindi può anche arrivare quello non perfettamente allenato Sì, è una ciclabile comunque adatta a tutti Perché sono 80 km ma sono prevalentemente pianeggianti E c'è la possibilità, come dicevi tu, di percorrere solo alcuni pezzi Per poi fermarsi negli autogrill della ciclabile Quindi questi bici grill dove si possono trovare dei bar o dei ristoranti E anche delle piccole attrezzature per la riparazione delle biciclette In caso di necessità Quindi è una ciclabile veramente adatta a tutti Adatta a tutti e soprattutto ideale nel periodo autunnale Perché le condizioni meteo chiaramente non sono ancora freddo come d'inverno Non fa caldo d'estate Quindi temperature ideali per fare sport E soprattutto poi rifocillarsi o con le terme di Levico Oppure nei bici grill, oppure diciamo ritornare nei tanti bed and breakfast hotel Che offre la vostra valle Che ricordiamo è all'avanguardia dell'offerta turistica Quindi l'autunno è il periodo ideale per venire qui a Val Sugano Uno dei periodi ideali per venire qui, per percorrere la ciclabile Sicuramente l'autunno, come dicevi tu, le temperature non sono alte Quindi si sta benissimo, si può percorrere la tutta Poi ricordiamo che la ciclabile percorre la destra del fiume Brenta Quindi si è accompagnati anche da questo paesaggio fluviale E quindi un paesaggio che per quanto riguarda l'autunno Ha sicuramente dei colori che bisogna non perdere Grazie a Patrizio Andreatta per questa spiegazione molto particolare E peculiare di questa offerta turistica che offre la Val Sugana La ciclabile 80 km da Lago di Caldonazzo fino al Bassano del Grappa Come abbiamo visto completamente sicura, aperta a tutti gli amanti delle due ruote Grazie a Patrizio Andreatta, grazie a Stefano Ravelli Al direttore Pasqualina, al sindaco Beretta Alla dottoressa Cattoni che ci hanno presentato le bellezze della Val Sugana Bellezze soprattutto ideali per chi ama la vacanza autunnale Stagione come vedete ideale, temperature emite Anche oggi quando abbiamo registrato questo speciale Le condizioni erano pressoché ideali e perfette Per scoprire le bellezze di questo territorio Che è un patrimonio importante del Trentino e della nostra Italia Grazie a Gianluca Podi per le riprese e il montaggio di questo speciale televisivo Grazie all'azienda per il turismo della Val Sugana E a tutto il territorio ricco di storia, di cultura e di tradizioni E amante dello sport e della natura Noi ci vediamo la settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza Sempre con sportodoro.tv La multipiattaforma TV e web Tutta dedicata allo sport e al turismo Noi ci vediamo la settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza Ciao e arrivederci alla prossima occasione Da Floriano Mabon Salice, fatti di sport Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro La bellezza ti circonda e l'energia si libera Cammina e pedala sui sentieri piemontesi Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano Sportoutdoorviaggi.it L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca vela e catamarano Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna Con sportoutdoorviaggi.it Cosa faccio a Spezia? A Spezia? A Spezia faccio cose, vedo gente Parola di Dario Vergassola In collaborazione con Val di Fiemme Ponte di Legno Tonale Valle del Chiese Madonna di Campiglio Pinzolo E Valle Indena